Mister, a fine settimana con il sorriso a metà, ci racconta questo pareggio? Forse è stata una delle partite più belle che abbiamo fatto per l'intensità, per quello che hanno messo i ragazzi in campo. Addirittura avevamo delle assenze che nel nostro organigramma sono molto pesanti, perché dei giocatori risoluti come Frucci, come lo stesso portiere, che comunque è stato sostituito degnamente dall'ottimo Giordano. Però stranamente abbiamo fatto una grandissima gara. Ancora una volta paghiamo da azio per quello che è il nostro credo calcistico, perché io e il mio staff chiediamo sempre ai ragazzi di giocare la palla dietro, senza buttarla mai, senza avere paura di sbagliare. E come capita purtroppo nel calcio, un errore, una disattenzione un po' banale all'inizio del secondo tempo, ha fatto sì che loro passassero in vantaggio e lì è stata utensalita. Però, ripeto, forse è una delle più belle partite, uno per l'intensità che hanno messo in campo i ragazzi, due per le qualità del gioco, per come è stato espresso il gioco durante la partita, e tre perché ho visto una squadra che comincia a credere di più in se stesso, ha più valori, in quello che è la voglia di raggiungere l'obiettivo durante la settimana, preparano sempre bene, raramente sbagliano gli allenamenti, quindi è una squadra che sta crescendo. Questo ci rende comunque orgogliosi. In vista della prossima partita, però, cosa vuole vedere il meglio della tua scuola? Eh, ci basta vedere una continuità, ci basta vedere una squadra che continui in quello che è il percorso di crescita, che noi ci siamo prefissati quest'anno, perché, come ti dicevo, fino a due o tre mesi fa, questo era un gruppo che a giugno sarebbe stato rinnovato ancora una volta, perché eravamo troppo indietro per quelli che sono la qualità, lo standard della società calcio Sicilia. Invece ti devo dire che questi ragazzi, secondo me, a giugno ci metteranno in serie difficoltà, perché ho visto un gruppo che sta crescendo in maniera esponenziale, un gruppo che comincia ad acquisire qualità tecnica e soprattutto tattica, ma soprattutto a livello caratteriale stanno cambiando. Io ho sempre detto che la cosa più difficile per un tecnico, quando alleni un gruppo di 15 anni, è riuscire a cambiare in quelli che sono i loro atteggiamenti, il loro modo di vedere la vita e di prepararsi la puntata sportiva. Non è facile, perché hanno già delle loro abitudini ben radicate, quindi abituarli o cambiarli addirittura in quelle che sono le loro abitudini non è mai facile. Questo è un gruppo che invece ci sta mettendo tanto, ci sta mettendo tanto amore, tanta voglia di cambiare. Ripeto, sono sicuro che avrò delle serie difficoltà a giugno nel fare le scelte, nel stilare la famosa rossa di 20-22 giocatori a portare ai regionali il prossimo anno. La classifica la guardate? Non la guardiamo, devo esserti sincero, non la guardiamo perché non ci interessa. Non saremmo corretti. Se dovessimo guardare la classifica avremmo fatto un po' come fanno tutti gli altri, nei big match così chiamati, avremmo portato con noi i ragazzi che fanno i regionali con il mister D'Angelo e sicuramente qualche punto in più l'avremmo già avuto, non avremmo pagato d'azio per quella che è l'inesperienza del gruppo che è stato assemblato a settembre. Quindi non la guardiamo perché, ripeto, a noi non ci interessa la classifica nel campionato sperimentale, ci interessa proprio guardare invece quello che è il rendimento della squadra, la crescita dei singoli ragazzi e la crescita di quello che è il gruppo in toto. Io sono convinto che questo è un gruppo che sta crescendo e questa è la cosa che ci rende maggiormente orgogliosi, quindi non vedo perché dovremmo guardare la classifica. Ci presenta la prossima giornata di campionato? Noi giochiamo questa settimana, facciamo ancora una volta una sosta, questo forse è l'handicap di questo torneo sperimentale perché ogni due settimane ci sono state delle soste, quindi non l'ho capito questo girone. Però noi giochiamo tra due settimane, giochiamo contro il Cei, allenato dall'ottimo mister Calafiore che conosco da tempo e so che prepara sempre bene le sue squadre. Un gruppo imbottito di un bel po' di 2001, però che all'andata ci ha messo seriamente in difficoltà e devo dire che forse è stata una delle peggiori partite che noi abbiamo fatto fuori casa contro il Cei. e sono convinto che non tanto perché abbiamo giocato male noi, ma perché proprio loro ci hanno messo in difficoltà tatticamente dal punto di vista proprio del palleggio, dal punto di vista dell'intensità. È stata forse una delle poche squadre che ci ha messo sotto in tutto e per tutto e quindi sono curioso, ecco, non è il risultato, ma proprio sono curioso di vedere proprio contro di loro la mia squadra cosa saprà fare perché sarà secondo me un bel modo per giudicare quello che è la nostra crescita. Quindi l'aspetto sicuramente con grande entusiasmo questa partita e la prepareremo come sempre perché per noi sarà un motivo per capire dove siamo, quali sono stati i nostri parametri di crescita durante questi 4-5 mesi assieme.